Musica Con Edoardo Brusa, difensore centrale, Edoardo si è entrato nel secondo tempo, a partita che è finita 9-0, come ti è sembrato questo test che comunque vi avvicina al campionato? Sì, è stato un buon test per mettere sicuramente i minuti nelle gambe, è stata comunque una bella vittoria, era importante non subire gol e ora abbiamo un'altra amichevole sabato e poi ci prepariamo per la prima di campionato che per noi è importantissima. E ora dopo queste interviste linea alla sintesi di questa partita tra Atletico QMC e San Giuliano finita 9-0 per il San Giuliano. Grazie a tutti. 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 No, 5 a 0. 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 No, 5 a 0.